Salve a tutti, sono il dottore Armando Dorta, specialista e scienza dell'alimentazione e vi parlo qui dalla nostra sede di Caserta al Dipartimento di Medicina Integrata e Nutrizione Oncologica. Avremo martedì sera su Alimentiamo la Salute uno dei nostri consueti incontri dove parleremo di cancro, di oncologia integrata e più specificamente questa volta ci occuperemo del sistema immunitario, cioè del rapporto tra la nostra immunità e il cancro e la malattia oncologica. Parleremo di immunoterapia, immunodepressione ma soprattutto immunomodulazione e vedremo quali sono i cibi ma quali sono soprattutto gli elementi di chimica vegetale capaci di interferire in senso positivo col sistema immunitario. Vedremo che alcuni funghi, quindi alcuni micoterapici lentinani o meglio l'estratto del micelio, quindi la radice dei lentinani, è capace di andare a potenziare e a modulare la risposta del nostro sistema immunitario al cancro. Vedremo che sarà possibile in qualche modo migliorare, ecco, in modo significativo gli effetti collaterali gravi della chemioterapia. Mi riferisco ad esempio all'elecopenia, quindi la riduzione dei globuli bianchi, motivo per cui spesso e volentieri l'oncologo è costretto a far sospendere ai nostri pazienti la chemioterapia. Vi aspetto martedì 11 aprile alle 21, dovrete cliccare sul link che vi sarà inviato via mail una volta registrati andando sul tasto iscriviti ora gratis. A martedì! Ciao! Ciao! E'